Guardate qua che roba! Andate di fretta, sto crostino, un bicchiere di vino è una risolta alla cena. Togliete le foglie più scure, tagliate qua, pulitelo, tagliate la punta del carciofo, metà, appena sentite lo sovall'aglio, butto i carciofi. Sale, pepe nero, dagli una bella stropicciata, e ora farli bene rosolati. Quando sono rosolati, buttate l'acqua, e copritelo con la carta forno. Usate un formaggio che si fila, una scamorzetta è perfetta, e mo' la chicca è questa. State a vedere sta meraviglia, c'è dolcezza e saperezza. Sono pronti, si rompono. In questo litro ci mettete il pane, il formaggio, metteteci i carciofi adesso sopra, mettete il coperchio, e fate sciogliere il formaggio. Chi è? Aaaaaaah! È da maricopio! Mo' le fettine di ronzardo sopra, che piano piano il grasso si scioglie, diventa trasparente, che buono mamma mia, guarda! Mmm! Mmm!